Benvenuto in questa nuova lezione in cui vedremo come registrare l'audio in Premiere Pro tramite il mixer tracce e come registrare una voce fuoricampo direttamente nella timeline. Prima di registrare assicuriamoci che il computer disponga di ingressi audio nella sezione dispositivi audio della finestra preferenze in windows modifica preferenze hardware audio oppure in mac os premier pro preferenze hardware audio hardware qui possiamo specificare il canale di input usato per registrare puoi impostare le opzioni per il tuo dispositivo predefinito puoi selezionare un dispositivo di output dal menù un dispositivo predefinito e selezionare una dimensione dei buffer dal menù dimensione buffer. Premiere Pro supporta dispositivi asio audio stream input output per windows e audio per mac os molti dispositivi sono dotati di connettori per il collegamento di cavi altoparlanti microfoni e breakout box. Bene vediamo come impostare la posizione dell'audio acquisito. Andiamo su file quindi progetto impostazioni di progetto dischi di memoria virtuale. Come abbiamo già visto qui possiamo selezionare il percorso per l'audio acquisito. Una volta collegati dispositivi di input e configurate tutte le impostazioni preliminari possiamo utilizzare il mixer tracce audio in Premiere Pro per registrare l'audio oppure possiamo registrare una voce fuori campo direttamente dalla timeline su una traccia audio. Cominciamo dal mixer tracce audio. Se vuoi puoi aggiungere alla timeline una traccia audio appropriata al numero di canali da registrare. Se ad esempio stai registrando la voce con un solo microfono mono è consigliabile effettuare la registrazione in una traccia audio mono. Per aggiungere una traccia clicca con il polsante destro del mouse qui add tracks aggiungi traccia e puoi definire vedi nella sezione audio tra tracce audio la posizione quindi se prima o dopo la traccia selezionata e il tipo standard 5p1 additiva o mono. Lasciamo standard. Spostiamoci nel mixer tracce audio e facciamo clic sull'icona abilita traccia per la registrazione in corrispondenza della traccia aggiunta per il dispositivo audio. In questo caso se vogliamo registrare sulla traccia A2 selezioniamo abilita traccia per la registrazione sulla traccia A2. Scegliamo il canale di input per la registrazione dal menu canale di input della traccia. Questo menu viene visualizzato quando si fa clic sull'icona abilita traccia per la registrazione. A questo punto se vuoi puoi regolare i livelli del dispositivo in input per raggiungere il livello di registrazione adeguato. Per attivare la modalità di registrazione fai clic sul pulsante esegui registrazione nella parte inferiore del mixer tracce audio. Proviamo a parlare al microfono, monitoriamo i controlli di livello del mixer tracce audio per fare in modo che i livelli di ingresso per le tracce abilitate per la registrazione siano alti ma senza clipping. La luce degli indicatori non deve mai diventare rossa altrimenti significa che il nostro audio risulterà distorto e da cestinare. Solitamente un audio alto ha un valore di registrazione intorno a 0 db, leggermente inferiore a questo valore appunto per non risultare distorto, mentre un audio basso intorno ai meno 18 db. Una volta selezionata quindi la traccia siamo pronti per registrare. Per iniziare a registrare chiaramente portiamo una testina di registrazione nel punto in cui vogliamo iniziare a registrare e clicchiamo sul pulsante riproduci. Questa è una prova di registrazione con Adobe Premiere Pro utilizzando il mixer tracce audio. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione. Per interrompere la registrazione clicchiamo sull'icona interrompi. L'audio registrato viene visualizzato sotto forma di clip nella traccia audio e sotto forma di clip master nel pannello progetto. Possiamo sempre selezionare la clip nel pannello progetto per rinominarla o eliminarla. Questa è una prova di registrazione con Adobe Premiere Pro utilizzando il mixer tracce audio. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione. Vediamo ora come registrare una voce fuoricampo per una traccia audio dalla timeline. Il pulsante di registrazione voce fuoricampo consente di registrare una voce fuoricampo direttamente dalla timeline su una traccia audio. Se non visualizzi il pulsante registrazione voce fuoricampo nella timeline, seleziona la traccia nella timeline in cui desideri aggiungere la voce fuoricampo, fai clic con il pulsante destro del mouse, vai in Customize, nelle impostazioni e da qui puoi aggiungere, vedi l'icona, della registrazione della voce fuoricampo. Bene, per accedere alle impostazioni di registrazione voce fuoricampo direttamente dalla timeline, selezioniamo impostazioni registrazione voce fuoricampo dal menu di scelta rapida. Qui puoi specificare la durata del conto alla rovescia di pre-roll e post-roll. Se selezioni la casella cue audio conto alla rovescia puoi far sì che venga riprodotto un segnale acustico relativo allo stato della registrazione. Questi segnali acustici non vengono registrati con la voce fuoricampo. Chiudiamo il pannello. Possiamo anche nominare la nostra voce ad esempio voice over. Prima di registrare un audio in diretta è sempre bene disattivare l'audio durante la registrazione in modo da evitare il feedback o l'eco quando il computer è collegato agli altoparlanti. Scegli modifica preferenze audio in Windows oppure Premiere Pro preferenze audio e disattiva input durante registrazione timeline. Una volta terminate le procedure di impostazioni preliminari possiamo procedere alla fase di registrazione. Possiamo registrare in maniera libera senza limiti posizionando la testina di riproduzione dove dovrà essere inserita la voce fuoricampo oppure possiamo contrassegnare un intervallo attacco stacco in cui inserire la registrazione audio. Per iniziare a registrare facciamo clic sul pulsante di registrazione voce fuoricampo. Nel monitor programma comparerà la dicitura registrazione in corso a indicare che la registrazione è stata avviata. Questa è una prova di registrazione. Per terminare la registrazione manualmente fai di nuovo clic sul pulsante registrazione voce fuoricampo oppure premi la barra spaziatrice. Al termine della registrazione viene creato un file audio della stessa. Eccolo qui. Il file audio viene importato quindi come nuovo elemento del progetto nel pannello progetto e inserito nella timeline. Quando utilizzi un intervallo attacco stacco preimpostato invece non è necessario fare clic sul pulsante registrazione voce fuoricampo. La registrazione inizia automaticamente quando la testina di riproduzione raggiunge il punto di attacco nella timeline e di conseguenza si interromperà quando la testina di riproduzione raggiunge il punto di stacco nella timeline e nel monitor programma comparirà la dicitura completamente in corso. Quindi proviamo a inserire un punto di attacco, premio il tasto I, inseriamo il nostro punto di stacco, tasto O, andiamo indietro nel tempo e selezioniamo il tasto di registrazione voci fuoricampo ad esempio sulla traccia A4. E' una prova di registrazione. Questa è una seconda prova di registrazione. Come vedi la registrazione è avvenuta nell'intervallo di tempo che abbiamo impostato nei punti di attacco e di stacco. In questo modo se devi inserire un inserto tra due clip audio non avrai il pericolo di andare a sovrascrivere parti audio importanti. Bene, in questa lezione abbiamo visto come registrare tracce audio, voci fuoricampo utilizzando il pannello mixer tracce audio e abbiamo anche visto come registrare una voce fuoricampo in diretta direttamente dalla timeline. Grazie per l'attenzione e ti aspetto nella prossima lezione. Questa è una prova di registrazione con Adobe Premiere Pro utilizzando il mixer tracce audio. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione.